Noi giovani cosa siamo disposti a fare per la Piacenza di domani? La città del futuro disegnata dagli studenti. Nel cortile di Palazzo Farnese, oltre 100 alunni delle scuole di Piacenza, dalle elementari fino all'università, hanno lavorato insieme nell'ambito del progetto partecipativo che condurrà al nuovo piano urbanistico generale. A questi tavoli di lavoro abbiamo portato le idee anche oggi, come ad esempio la maggior socialità, maggior sport in tutta Piacenza e di non distruggere le cose pubbliche. Abbiamo elaborato delle idee per arrivare a un progetto finito che secondo noi è una cosa che si potrebbe fare. È nel parco della Galleana ed è una cosa che secondo noi potrebbe essere molto utile ai bambini, soprattutto per distrarsi e fare qualcosa di comunque educativo. Noi abbiamo pensato a organizzare per esempio delle pulizie, delle aree verdi o anche magari dei fiumi e dei canali, magari anche con le scuole a turni. Abbiamo proposto ad esempio l'incremento dei pedibus perché abbiamo trovato molto utile questa attività. Dagli universitari quali sono le idee per il futuro di Piacenza? Cosa vorreste in questa città? Sicuramente più alle studio, più spazi dedicati all'università, residenze universitarie perché risolverebbe il grosso problema degli affitti che stiamo vivendo. Sono i più giovani a pianificare la Piacenza del futuro con questo progetto? Sì, è la loro città perché la Piacenza che noi prefiguriamo nel Pug è la città di domani e quindi sarà più la città di questi ragazzi che non la nostra. Ascoltare i loro bisogni e le loro esigenze in maniera molto seria perché loro stanno affrontando questo laboratorio con un impegno e una serietà, una concretezza che sono veramente straordinari. Io penso che sia molto importante perché i loro contributi rispetto al contributo che diamo noi è molto più fantasioso, è molto più creativo e sicuramente non meno concreto.